Che possibilità di carriera ho nel settore immobiliare? E' un'altra delle tante domande che mi vengono poste periodicamente da chi sta cercando lavoro magari anche partendo da zero. Ora, domanda correttissima, la risposta è dipende. Dipende da cosa? La prima cosa da cui dipende è sicuramente da noi stessi come persona, ma questo non serve Stefano Boscalato che te lo dica. La cosa più importante che pochissime persone analizzano è che dipende dalla struttura dove vai a lavorare. Se per esempio tu vai a lavorare all'interno, parlo del mio settore, di un'agenzia immobiliare dove c'è il titolare da solo che è indaffarato a mettere assieme il pranzo con la cena, dico io, è un po' difficile che tu abbia l'opportunità di fare carriera. Al limite imparerai un po' il lavoro rubando con l'occhio, ma lì ti fermi. E' molto più probabile che tu possa fare carriera, tu possa crescere all'interno di una struttura organizzata dove qualcun altro lo ha già fatto prima di te. Quella è la prima dimostrazione di avere la possibilità di poter crescere e quindi di far carriera. Ora, il passaggio per far carriera all'interno del settore immobiliare, il primo punto è iniziare a farlo agente immobiliare. Nel momento in cui sono bravo, quindi sono competente, cioè so raggiungere in maniera consapevole, autonoma, in delega quindi i miei risultati, posso anche iniziare ad imparare ad insegnare a qualcun altro. Quindi ho l'opportunità di passare da agente, venditore, operativo a manager, tutor, responsabile, persona che aiuta gli altri a vincere, a fare l'allenatore, persona che forma altre persone e guadagna oltre che emotivamente anche economicamente dal fatto che aiuta altri a vincere. Una volta che sono diventato tutor posso salire ancora, posso essere la persona che forma altri tutor, quindi un direttore, un direttore che forma i vari responsabili commerciali che a loro volta gestiscono le figure commerciali e questo lo sto dicendo solo nell'ambito ovviamente della parte vendita, ma se fosse una persona che si occupa di amministrazione potrei fare la stessa carriera all'interno di una grande azienda organizzata per quanto riguarda l'ambito dell'amministrazione o della gestione delle pratiche o del marketing e vi dicendo. Stando comunque sulla parte vendita che di solito è quella a cui si riferiscono le persone che mi fanno questa domanda, agente, tutor, direttore, per poi diventare chi? Per poi magari diventare una persona che gestisce un'area commerciale, quindi un'area geografica in cui ci sono più sedi e aiuto altre persone ad aprire uffici e io a mia volta posso diventare un imprenditore, aprire quindi il mio ufficio. Il requisito di base comunque è quello che tu sia ambizioso, una persona determinata che vuole crescere, che vuole mettersi in gioco superando i propri limiti, quindi diventare più bravo, più empatico, più determinato, più organizzato e anche più leader ovviamente, ma tutto questo passa dal fatto che dipende dalla struttura in cui ti inserisci. Se vai in una piccola struttura dove la carriera non c'è perché vedi continuamente un turnover di persone, persone che non crescono, è evidente che lì carriera non esiste. Se vedi invece un'azienda dove altre persone l'hanno già fatto e stanno aiutando ad altre persone a farlo, quella è l'azienda giusta. Se ti fa piacere valutare una carriera reale all'interno del settore immobiliare, in una struttura organizzata che ha già un piano di crescita già scritto e bello determinato, in cui dal primo giorno sai cosa devi fare e dove puoi arrivare senza problemi, contattami. Alla tua carriera e al tuo successo!